La Francia della guerra e del dopoguerra è Charles de Gaulle, padre intiscusso della patria. Ha guidato il paese fuori dal conflitto mondiale, ha fondato un movimento politico, ha provato la delusione del mancato riconoscimento da parte dei francesi, si è ritirato ed è tornato sulla scena. In questo con una storia molto simile a un altro grande protagonista di quel periodo, Winston Churchill. Il 21 dicembre 1958 è però il giorno della rivincita, Charles de Gaulle viene eletto Presidente della Repubblica e si avvia quella fase di passaggio dalla Quarta Repubblica alla Quinta Repubblica che ancora oggi caratterizzano la politica e lo Stato Francese. Nel 1962 c'è la riforma presidenziale con l'elezione diretta, il potere presidenziale dell'esecutivo vengono molto rafforzati. Charles de Gaulle interpreta a modo suo il ruolo sia nella fine della guerra in Algeria, sia per quello che riguarda il modo in cui affronterà il 68 francese, decisamente uno statista d'altri tempi.